Una partita che viene contro una grande squadra che può mettere in difficoltà chiunque, però noi vogliamo continuare a mettere in campo lo spirito e la determinazione delle ultime partite. Abbiamo visto quali possono essere le chiavi per riuscire ad averla meglio sul Palermo e cercheremo di fare quello che abbiamo provato durante la settimana. Grazie